Una risposta da Bruxelles sul tema concessione autostrade, in ballo ci sono 7 miliardi e mezzo di euro per le autostrade del nord-ovest. Sì, noi non possiamo solo attendere, dobbiamo attivarci perché Bruxelles risponde alle nostre esigenze. E questo da gennaio si potrà fare con maggior forza perché la macro-regione delle Alpi comprende 7 paesi, 48 regioni, 8 regioni italiane, tra cui Lombardia e Liguria. Quindi una grande alleanza, dobbiamo aumentare le alleanze, allargare le alleanze, non solo tra le regioni italiane ma anche con le regioni di confine, con le francesi per esempio, perché Bruxelles senta la nostra voce, cosa che finora ha sentito troppo poco.